Io stasera mi sento veramente di andare in giro a rovinare famiglie, ragazzi, voglio andare a rubare l'uomo qualcuno Ciao fanciolini, ciao fancioline e benvenuti a un altro nuovo video Oggi video super speciale dove vi mostro come mi preparo quando voglio andare a rovinare famiglie Scherzo, no, vi faccio vedere come mi preparo di solito io quando esco, quando voglio andare a fare un po' di bagarre Pagar è la battaglia, la tizzania Come mi preparo? Ecco, quando voglio andare a fare un po' di festa Il mio make up, go to make up, che può essere di giorno tanto quanto di notte Perché non sono una persona che ama particolarmente i make up super pesanti Premessa, se fosse giorno come oggi, che è, non ve lo dico così ho un altro segreto 3000 Metto la crema solare, altrimenti se è notte io non uso il fondotinta Ve lo dico, non uso fondotinta Semmai uso un pochino di correttore E poi niente, è solito un make up super leggero Quindi partiamo subito, bando alle ciance, dopo la sigla Se mi vedete per la prima volta, sono Cristina e il mio canale parla prettamente di skin care Skin care per pelle sensibile Ma ci sono anche dei video di cucina, dei video del mio lavoro come attrice Quindi se ti interessa vedere come affronto la mia vita e come subisco miseramente Metti un pollice in su, iscriviti al mio canale, attiva le notifiche e continua a guardare Questo aiuterebbe davvero tanto Cominciamo La prima cosa che amo fare quando mi preparo per una serata o per una giornata è idratare la pelle In questo momento non ho nulla sul viso E questo effetto super smooth che vedete sono le luci E ho regolato bene l'iso, insomma sono delle cose un po' tecniche Però adoro questo effetto alla Barbara d'Urso, lo adoro Questo è un mio momento di figaggine Cosa uso? Vi ho parlato poco fa della linea Ceramol di cui ho fatto un video, andatevelo a vedere Dove parlo anche di questi prodotti Ma praticamente io cosa uso? La crema viso della Ceramol e il gel all'acido ialuronico della Ceramol Stiamo parlando sempre di Ceramol 311 Premessa Il gel viso è adatto alle pelli miste, grasse Ma anche alle pelli secche trovo Può essere anche una Io la chiamo crema anche se è un gel Il prodotto per l'estate, quando l'estate è affosa, appiccicosa Può essere ottimo Veramente soprattutto È adatto agli adolescenti secondo me Perché ha pochi ingredienti ma utili Il burro di carité, la vitamina E L'acido ialuronico L'aceramide 3, il colesterolo Quindi deve avere un prodottino eccezionale Che è adatto sia agli adolescenti che alle persone che hanno una barriera Abbiamo parlato della linea Ceramol 311 Andatevi a vedere il video Che hanno la barriera della pelle alterata Ottimo A mio avviso non è abbastanza idratante per me Quindi che cosa faccio? Io lo mischio Lo mischio con la crema viso Che è una crema viso Di cui vi ho già parlato Anche questa a base di burro di carité Le solite ceramidi Il colesterolo Una crema semplice ma davvero effettiva Io ho visto che qualcuno su Instagram Diceva che il gel viso non idratava abbastanza E ho visto qualcun altro che suggeriva di mettere prima il gel E usarlo come siero E poi la crema Io ho provato Ma devo dire che avvertivo la stessa sensazione di Non so, pelle che tira Mentre ho provato a mischiarli tutte e due Come vi faccio vedere adesso E ragazzi Magia Magia Pura magia Veramente Praticamente cosa faccio? Prendo, no? Un po' di gel Vedete che consistenza che ha? Metti a fuoco Sony Qua Ce l'abbiamo fatta Poi prendo la crema E le mischio Mi raccomando Non guardate le mie unghie Perché sono distrutte A lavorare Alla serie di Amazon Insomma Sono un po' provate E una volta che ho mischiato Io cosa faccio? Lo prendo Così Me lo metto sulle mani E procedo A metterlo Così sul viso E devo dire Che la sensazione Che si avverte È come Di pelle che beve Pelle che viene dissetata Fantastico Ragazzi Lo adoro Lo adoro Questi due prodottini Sono il mio Must have 2021 Ma sicuramente anche 2022 Due ottimi prodottini Economici Idratanti Adatti Ad ogni età E soprattutto Adatti per l'estate Poi Cosa applico? È il momento Di idratare La zona del contorno occhi Non è un segreto Che io ho una pelle Molto secca Ve ne ho già parlato Nei miei video E ho fatto un video corto Andatevelo a vedere Dove parlo di questo Omega Lid Omega Lid Pomata palpebrale È una pomata Senza pretese Però Ha degli ingredienti Davvero carini Tra cui L'olio di Rives nero Che mi piace tanto È molto lenitivo È adatto Per il contorno occhi E questa è una pomata Perioculare Quindi voi potete Anche Metterla Sulla palpebra Mi raccomando Non mettetene Troppo Sulla palpebra Se poi dopo Andate a truccarvi Ma anche perché Non volete Insomma Che la crema Vi vada negli occhi Non brucia Ve lo dico Non brucia Io devo dire Che ho adottato Da un annetto Buono Le creme Perioculare O le creme Palpebrale Come i miei Must have Contorno occhi E ho fatto anche Un video Qualche mese fa Dove vi parlo Delle 5 migliori Creme palpebrali Anti-age Per pelle sensibile Andatevelo a vedere Perché veramente È un bel Video Carino Ho cercato a lungo Qualcuno che facesse Video Sui contorno occhi Per le pelli Sensibili E non ho trovato Nessuno E allora mi son detta Perché non lo fai tu E così è stato Poi Se avessi tempo Aspetterei Un 10 minuti Ma noi stiamo facendo Un video Quindi Comincio subito Voglio Siccome giorno Una base Una base Che sia leggera Che però Mi protegga Un filtro solare 50 Vi ho già parlato Di questa crema L'anno scorso Ed è sempre lei La mia must have Aspettate qui Ed è la Color Science Unforgettable Total Protection Shield Nella tonalità Chiara Che io L'adoro La agitate bene E il bello Di questa crema È che protegge Anche dalla luce Blu No Dalla luce blu Nei nostri apparecchi Elettronici E lo fa Perché c'è L'ossido di ferro Comunque Ogni crema solare Che è colorata Sappiate che Protegge Dalla luce blu Dei vostri apparecchi Che sia Iphone Cutter Che anche questo È stato dimostrato Che invecchia la pelle Dopo averlo agitato bene Procedo all'applicazione Con una spugnetta Vi faccio vedere Non eccedo Perché Ripeto Non amo Come si dice L'effetto mascherone Ma mi piace L'effetto Illuminante Che questa crema ha C'è in tre tonalità C'è anche una tonalità Più scura Abbronzata Questa è quella chiara E poi c'è la tonalità Illuminante Che io adoro Vi dico la verità Che però Non uso Perché Avendo una pelle Abbastanza secca Estremamente secca Sono già lucida Di mio Perché Abbondo Di Come si dice Idratante Questo specchietto qua Me l'hai dato tu Kami Cara Kami E ti ringrazio Perché ragazzi Ragazze Volevo fare questo video Già un po' di tempo fa E non sono riuscita A farlo Perché non mi sono resa conto Che non avevo Uno specchietto Cioè Pensate voi Che tristezza Non avere uno specchietto E non poter fare Il video Quindi io procedo Così Stendo molto bene Questa crema Anche sul naso E come vedete La coprenza È molto naturale Mi avvicino Non so se vedete Si vedono ancora Le lentigini E procedo adesso Con il correttore Correttore perché Se fosse noto Non lo userei Ma siccome è giorno Io ho trovato Questo correttore Fantastico Di cui vi ho già parlato Che è Il Color Science Total Eye 3 in 1 Renewal Therapy Protezione 35 Vediamo se lo mette a fuoco Perfetto Che trovate online Io lo adoro È presente in diverse tonalità L'ho usato come correttore Nella serie di Amazon E anche la truccatrice È rimasta molto Diciamo No Molto Impressionata Impressionata Diciamo Piacevolmente Sempre con la stessa spugnetta Lo vado a lavorare bene E poi Lo applico Nei punti giusti Non applicatelo qui Applicatelo al bordo Se avete la pelle secca In questo modo Vedete che effetto illuminante Che fa? Fa un effetto molto illuminante Se lo applicate qui E non siete più Tanto giovani Cosa succede? Che vi segnerà Le rughette Oppure lo potete applicare qui Dove non si muove Ma se vedete In questo modo Applicandolo qui Così Avrete un effetto Illuminante Guardate qua Che vi durerà tutto il giorno In più avrete una protezione solare Inoltre contiene anche Degli ingredienti anti-age Per questo io l'adoro E poi procediamo così Voilà Io lo amo alla follia E va anche messo Se volete Sulla palpebra mobile Non dà irritazione Non dà problemi Anzi vi crea Un'ottima base Vedete? Per poi applicare Il vostro trucco Mi raccomando In questa area Siate gentili E quando dico gentili Dico Siate gentili Perché il contorno occhi È una zona Super super delicata E non vogliamo Andarla a Stressare Inutile Ecco qua Perfetto Qual è il mio prossimo step? Il mio prossimo step Ovviamente È Sistemare le sopracciglia Queste misteriose Come facciamo? Vi ho fatto un corto Dove vi dimostravo La mia nuova tecnica Per sopracciglia Laminate O laminazione A casa fai da te E sono riuscita A ottenere Quel bellissimo effetto Grazie a un solo Prodotto C'è qualcuno Che su Instagram Mi ha scritto Ma Cristina Ma veramente Grazie a un solo Prodotto Sei riuscita Ad avere Quell'effetto Laminato Certo E sono riuscita Grazie a questo Prodotto Che è quello Dell'Anastasia Beverly Hills Brow Freeze Ed è un gel Trasparente Super denso Che ora vi faccio Vedere come si usa Allora Con il numero 12 Di Anastasia Beverly Hills Del pennellino Ma potete usare Uno qualunque Vado a prendere Un po' di prodotto Non esagero Mi raccomando Non so se si vede Mettilo fuoco No vabbè E mi raccomando Se non lo richiudete subito Mettetelo a testa in giù Così il prodotto Non si secca Poi loro suggeriscono Di prendere il tappo E di lavorare bene Il prodotto così Poi cosa faccio io Adesso vi faccio vedere E qua devo zoomare Comincio a lavorare Il sopracciglio Così Vedete Adesso uso Mi servirò anche Dello specchietto qua Perché voglio Tenere tutto Sotto controllo Se vedete Che le vostre sopracciglia Come spesso capita a me Sono ribelli Cosa fate Prendete ancora Un po' di prodotto E iniziate a fare L'altro sopracciglio Vedete Guardate qua C'è subito un cambiamento Notiamo Diciamo che In linea massima Tutte le pomate Per le sopracciglia Più le lavorate Più vi daranno risultati Quindi io Poi Ritorno Su questa E faccio questi movimenti Non so se vedete Lo giro Poi schiaccio Come se premo Premo il sopracciglio E voglio fissarlo Ora Ovviamente Le sopracciglia Se le volete Super 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 Laminate Che stanno su Questa operazione Me la dovete fare Prima di mettere crema Prima di mettere fondotinta Perché ovviamente Scivolano in giù Vedete qua Io non le voglio Estremamente Laminate E quindi Mi basta così Quando ho raggiunto Il livello che voglio Le disciplino Vedete Le disciplino così No ragazzi Che bello è Sto guardando Lo specchio Se poi le volete Di più Potete sempre Lavorarle Successivamente A me piace Mi piace il risultato Mi piacciono Queste sopracciglia Come potete vedere Sono bellissime C'è chi le vorrebbe Probabilmente Più piene A me Più piene Non mi piacciono più Credo che il 2016 Il 2015 Il 2014 Dove andavano Quelle sopracciglia Cariche Piene Artefatte Sia passato di moda Ora Sì Va il sopracciglio pieno Ma vanno I peluzzi Disegnati Quindi se voi Se non mi va bene Questo risultato Voi con questo Scovolino Di Anastasia Beverly Hills Mi mette a fuoco Vabbè Fa niente Con la pomata Andatevi Fate pelo per pelo Ecco Ok Va bene Andiamo avanti Che cosa Poi Comincio a fare Faccio le labbra Le labbra Le faccio Con due matite La 02 La 03 Nage Oleari Che è una marca Che ho scoperto Da poco Che mi piace tanto Nage Oleari E comincio Gradualmente Gradatamente Gradualmente Sì Con quella Color Chiaro E comincio Così Ora Io Non è che ho le labbra piccole Non ho il contorno Perché si vede Che Il destino La vita Chiunque si chiammi Ha voluto Creare così Quindi devo sempre Ricrearlo un po' E uso Prima uno chiaro E poi Questo che più malva La numero due Nel frattempo Se sentite dei rumori E la lavatrice Che sta Andando Poi Io esco Un pochino Così Anche qui Dopodiché Che cosa faccio Sempre della Nage Oleari Ho trovato Questo Plumping Kiss Lip Gloss Nella tonalità Numero 5 Che amo Alla follia Cioè Io amo Questo Gloss Perché Si sposa bene Con Diciamo Queste tonalità Delle labbra Fammi avvicinare Un po' Di più Ecco qua E sfumo Sempre con la testina Di questo Pennellina In modo che il bordo Si vada Perdendo A me piace un po' Di bordo Però deve essere Del colore giusto Non mi piace quel bordo Che lo faccio Mamma mia Anni 90 No Perfetto Ora Occhi Allora Di solito Io non sono una fanatica Del make up Degli occhi Perché Come sapete Sono allergica Praticamente a tutto In Inghilterra Ho trovato questi pennelli Che sono Di boots Costano pochissimo Sono super morbidi Quindi vi assicuro Che non vi Irrita La palpebra Che cosa faccio Prendo Un ombretto Chiaro Adatto per il contouring Che è Omega Della MAC Gli asiatiche Lo usano Tanto Per fare Il contouring E prendo Un po' Di colore Mi raccomando Sempre Rimuovere L'eccesso E cosa faccio Faccio Così Ognuno di noi Ha una Certa Riga naturale No Crease Non so Come si dice In italiano Se ne riuscite A trovarla Basta Che guardate Un po' In giù Che so Chiudete E la trovate Vedete E lo fate Un po' Diciamo Così Ma una cosa Molto naturale Ve lo dico Poi vado qui Nell'angolo E questo Mi permette Di definire Un po' Di più La situazione Ripeto Questo è Come piace a me Come mi vedo Io Non sono Una truccatrice Non sono Un'esperta Quindi questo È un make up Che piace a me Perché è il modo In cui mi trucco Da Da sempre E vedete Che effetto Voi Magari non lo notate Però è davvero Impercettibile Non fermatevi Qui Se volete Un effetto naturale Fermatevi Qui Altrimenti Andate Sfumatelo Un po' Più In qua Alla radice Del naso Vedete Qui E in questo Modo Vi crea Un'ombra Bellissima Non so Se si vede Se volete Di più Cosa fate Prendete Ancora Un po' Di colore Picchiatelo Soffiatelo Non si fa Per i batteri Però vabbè E aggiungete Qui Qui È meglio Aggiungere E Prendete Sempre Poco colore Perché si fa Presto Ad aggiungere Ma se mettete Troppo Poi non si riesce A togliere Se fosse giorno Io mi fermerei Così Se fosse notte Aggiungerei Sempre qui Ma non credo Che lo farò Qui Concrete Che è sempre Della MAC Ed è un grigio Un taupe Un po' Scuro Molto Molto coprente Vedete la differenza Di questi due Vi faccio vedere Dai facciamolo tanto Prendo sempre poco E lo metto Proprio qua Nell'angolo Vedete Ho già preso troppo Primi gusti E lo vado a sfumare In questo modo Vedete come Sì No Come l'ombra Rimane Più Più visibile Più concreta Ecco E poi sfumo Anche verso l'interno Mi raccomando Sfumatela bene Qua E questo Per chi non ha Diciamo Questa Questo taglionetto No Della Palpebra Crease Non so come si chiama In italiano Guardate Lo potete ricreare voi Semplicemente così Ripeto Non sono una makeup artist Questo è quanto Ho imparato Dalla serie E anche Dalla vita Diciamo Guardando Ecco la differenza È subdolo Ma si vede Procedo con l'altro Con l'altro occhio Auguri Non mi vengono mai uguali Ve lo dico Sappiatelo Quindi Se anche a voi succede Non prendetevela Non è colpa vostra Non siamo uguali E gli occhi Come le sopracciglia Dai ragazzi Sono più sorelle O fratelli Che gemelli E procedo Allo stesso modo Ovviamente Avendo usato Lo stesso pennello È rimasto Un po' più Del colore scuro Del concrete E quindi Già forse Non me la cavo così Senza dover aggiungere Guardate che bello Come cambia No Devo aggiungere Un po' di Dello scuro Mi raccomando Non soffiate mai Sul pennello Se con quei pennelli Dovete andare A truccare qualcun altro Questo perché Non è igienico Non bisognerebbe mai farlo Ve lo dico perché È un brutto vizio E io Di vizi Ne ho pochi Ma mi sono resa conto Che ho questo vizio Beh Ho il cibo dai Diciamo Ce l'adoro mangiare Tra l'altro ragazzi Sono stata presa Per un altro film Si gira ad ottobre Ottobre novembre Sarò a Torino A girare questo film La prima stagione Di Amazon È andata Sono molto contenta Si girerà questo film E io non vedo l'ora di Farta Adoro Quindi Se per caso siete a Torino Sappiate che Metà settembre Ottobre novembre Sarò la ragazzi Sarò la ragazzi E tutto ragazzi Voilà Vedete Semplice Se volete qualcosa Di più estremo Aggiungete più colore scuro Io non voglio Eh dai Con soffiare Vabbè Io voglio Accentuare ancora un po' La rima Quindi uso sempre Omega Ancora soffiare Vabbè ragazzi Non fatelo E passo qua sotto Questo mi dà Un po' di intensità Ma questo è come Mi trucco io Non ho nessuna pretesa E lo diciamo Rapportate a questo Ecco Potete ancora Sfumare Se volete Ricordatevi Di sfumarlo qua E vi farà Un bel effetto Ora Ora che siamo A questo punto Se voletevi fermate Altrimenti Possiamo mettere Una riga di eyeliner Io non sono brava E vi faccio vedere Che uso Tra l'altro Questo eyeliner Che è Liquid ink Eyeliner nero Della Essence Pochissimi spicci Sempre ottimo Perché mi piace L'occhio un po' La Marilyn Monroe Ora Se sono allo specchio Riesco a farlo Qui Non so che cosa combinerò Quindi Siate buoni Siete buoni Mi devo ingobbare Vabbè Comincio sempre Da metà E poi Mi congiungo così Perché ho cominciato Da qui Perché non volete Cominciare dall'inizio Perché quando tirate fuori Il pennello Per quanto voi Lo puliate Lo asciugate Rimane sempre molto più prodotto E a noi serve più prodotto Alla fine Piuttosto che all'inizio Quindi fate metà dell'occhio Così E dopo Dall'inizio Verso la fine Ok E mi fermo qua Faccio l'altro occhio Questo come faccio io di solito Quindi Mi preparo a prendere Un'altra generosa Pompatina Truc Pompatina no Vabbè Lasciamo perdere Suona erotico Ma perché no Perché no Fate l'amore Non la guerra Ragazzi Come dicevo nel video Dello stello Di Londra E Ecco se non mi mette Non si respira Qui Non si respira Oh mamma mia Che ottimi Perfetto Ora Se Voi voleste un trucco Un po' più leggero Potreste fermarvi qui Vedete che bello Vedete Guardate E mettere mascara E siete a posto Ma io voglio un effetto Un po' più No Bad bitch Un po' Marilyn E quindi che cosa faccio Quindi provo a fare Quello che è difficilissimo Ed è la La coda Alla Marilyn Perfetto Vedete E controllo Controllo E vedo se Quello che ho fatto Mi piace Se non mi piace Correggete con un cotonfiocco Oppure Accettate Che andrete in giro Come un pagliaccio Voilà Adoro ragazzi Adoro Ora Potrei mettere il mascara Ed essere a posto Ma Io stasera Mi sento veramente Di andare in giro A rovinare famiglie Ragazzi Voglio andare a rubare L'uomo qualcuna No sto scherzando È guai E quindi Voglio Un effetto più Strong Quindi che cosa metto Metto delle ciglia finte Io non sono mai stata brava A usare delle ciglia finte Ho scoperto da poco Queste qua Della Kiss Che sono favolose Sono le ciglia finte Magnetic Le ho tagliate Perché erano veramente Troppo Troppo E non mi andava Troppo E non mi andava Di andare in giro Come Moir Orfei E lo comprate anche Super natural Un po' più naturali Questo un po' più No Un po' più estreme Oggi voglio farvi provare Le estreme Ma come funzionano Voi avete i magneti E poi Quando lo comprate Viene anche questo eyeliner Speciale Che è magnetico Premessa Questo eyeliner È super 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 Forte Non lo toglie Neanche la morte Neanche il trucco Waterproof Per quello che vi ho suggerito Di mettere Prima una bella vase Del correttore E dopo Io ho scoperto Che se metto Prima Un eyeliner Qualunque Questo chip Della Essence E poi ripasso Sopra Questo Funziona E quando mi strucco Si strucca Senza problemi Non volete mica Andare a sfregare Attorno agli occhi Che si rovinano Ma siete pazzi Quindi agitatelo bene E poi ripassate Dove siamo Diciamo no Passati Faccio vedere Come il pennellino Vedete E rifaccio Quello Oddio cosa fa Ho già fatto una cazzata No grazie a Dio Non si vede Siate generosi Perché volete Che Il vostro La vostra ciglia Si attacchi Quindi mi raccomando Mettetelo bene Allora Io ho gli occhi sensibili Non ho riscontrato Nessun bruciore Nessun prurito Nessuna irritazione Da questo Eyeliner Forse perché Non lo uso tutti i giorni Ma lo uso Per la battaglia Della vita E poi lo uso Con la base Con l'altro eyeliner Come base Quindi Penso che No Se può fa Oddio no Io me lo sono buttato addosso Che disastro Che sei Vabbè Ma che me ne faccio Vabbè Va bene Che unghie che ho ragazzi Me ne sono proprio conciate bene No Ma no Non ci riesco Così Ecco Poi Vedete Mettetelo dove pensate che serve A me piace Che la ciglia finta Parta anche un po' Da qua Perché mi piace Quell'effetto Un po' Languido Un po' No Adesso Sicuramente Se non siete Dei fessi Noterete che manca qualcosa Manca il mascar Ma Se andate a vedere La vostra Sfumatura Vedete che è leggera Perché ovviamente Sendo un eyeliner nero L'ho cercato Marrone magnetico Che adorerei Non l'ho trovato Cosa potete fare? Potete o Rintensificare La piega Che è questa Cosa che non faccio Però adesso Perché non voglio mica Andare a No È ancora umido Mi raccomando Aspettate che l'eyeliner Sia bene asciutto Continuo A lavorarmi un po' Le sopracciglia Quindi Un bel zoom Cosa faccio? Prendo ancora un po' Di prodotto E continuo Così Che ne dite? E vado così Perché nel frattempo Si sono Ispessite Vedete? E Scelgo io Come voglio Che vanno Adoro 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 Anastasia Beverly Hills Thank you Perché ti ho proprio Usato un sacco Sulla serie E ti userò Tantissimo Ma proprio Tanto 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 Nel nuovo film Ammesso come lo concedono Adesso Perché io Adoro Che bello Vi svelo i segreti E dopo Andate in giro Uguali a me Guardate che se Bec una sosia La prendo a sverle Ve lo dico Mi piace Adesso Penso Che sia Asciutto Quindi Andiamo così E Procediamo Con l'applicazione Delle ciglia Facciamo così Va Così vedete Guardate un po' Come rimangono Allora Se volete Potete mettere Anche un po' Di mascara Io non lo metto Perché O lo metto prima O lo metto dopo Quello che potete fare È Vedete Scegliere voi Potete posizionarla Più in alto Ovviamente Con un po' Di mascara Prima Siete Ok Quindi ora Che avete visto Torno Indietro E Procedo Con l'applicazione Dell'altra Lo pagate Pochissimo Lo comprate In svizzera Se siete in svizzera Sappiate che Müller Le svende Cioè proprio Le svende Le svende Ancora Sì Le ho presi di fumo E stanno Cioè non è che vanno via Se volete Ripeto Mettete mascara Se volete essere più sicuri Fate un'altra passata Di eyeliner E siete a posto Adoro proprio Adoro Vediamo un po' Cosa potrebbe mancare mai Beh un po' Di mascara Sì potete mettere Ve lo dai Magari sotto A questo punto Ho visto che A mio avviso Manca un po' Di sfumatura Allora vado qua Poco però Sempre con l'omega E ci do Dentro la grande Ma poco Mi raccomando Se volete poi qualcosa Di drammatico Qui potete mettere Del chiaro Del bianco Del perlato Medvede Troppo dopo Guardate Ci mancava Perché aggiungendo L'eyeliner Le ciglia finte L'occhio Poi Ha bisogno Ha bisogno E poi è di base È di base Wow Adoro Ho già detto milioni di volte Ovviamente Mi sciolgo i capelli Che vero dico a fare Come avrete notato Non uso né blush Né Né Mi risistemo i capelli Come avete notato Io non sono una che ama Particolarmente No Fare troppo i capelli L'avrete capito Li lascio abbastanza naturali Anche perché Sono fini E direi che non è il caso Di stressarli Già li stresso Quando lavoro al cinema Quindi Che cosa faccio Mi faccio i capelli così Magari me li faccio Un po' mossi Però io penso che Già così È figo Cioè questo è il mio Go to make up When I want to Fuck it up With people guys Quindi Penso di avervi fatto vedere Dei produttini Veramente Veramente Top Cos'altro potrei farvi vedere Che uso Forse Ce l'ho qui No Non ce l'ho qua Vediamo però Se riesco a fare Con il pennello Con un pennellino A intensificare Un po' di più le sopracciglia Come dite Ah io le voglio Un po' più intense Va bene Facciamole Venite qua Venite più vicino Con questo pennello Pennello Vedete come fine È super È ultra Prendo il mio Omega No scusate Prendo il mio Concrete Di MAC Così E Dai mi avvicino dopo In post production E faccio così Prendo sempre un po' di colore Sempre poco eh E con lo stesso A volte Non nego che enfatizzo Ineo Che ne ho uno Che si vede poco E niente Mi raccomando Quando fatele Quando colorate le sopracciglia Mi raccomando Quando le riempite Non riempite mai qua Riempite piuttosto Da metà in poi Questo farà una sorta di Degrade naturale Che vi renderà credibile Ecco Con questo a volte Faccio anche un po' Qua La riga sotto Però Oggi non mi va Mi va solo di fare Un po' più Le sopracciglia intense Per voi Non ho capito Perché sono così Illuminata Cioè Vai Viene Vai Viene Non lo so Io Vabbè Che nervoso Guarda Continuo a guardare Tutti i tutorial Per la luce C'è Mabu Oh no E già così Siete a posto Ecco Quindi io sono pronta Magari mi farei Che ne so Una messa in piega veloce Mi metterei un Un bel paio D'orecchini Ma questa Sono io Però Fatemi controllare una cosa Perché forse È l'exposure Che è un po' Troppo esposto Era troppo esposto Tutti quanti Noi vogliamo Una pelle liscia Ma non vogliamo Sembrare Barbara d'urso Ora io so Cosa starete pensando Ma sei lucida Certo sono lucida E per ovviare a questa cosa Metto sempre una cipria Che è quella della Supergoop Con protezione solare E basta Ma a me piace Io A me non piace essere opaca A me l'effetto opaco Non piace Io devo essere Blowing Cosa mi raccontate voi Tra l'altro avete visto Che figo questo background Vi faccio vedere Che cosa ho comprato Anche da Amazon Amazon Grazie per farmi lavorare E per farmi comprare Che pago io ovviamente Diciamo che Se volessi essere No Una zucca Questo poi Halloween Ragazzi Non mi devo neanche vestire Sembrerò una zucca di Halloween Poi c'è questo Che carino Giallo Giallo mi piace un sacco Soprattutto perché vi faccio vedere Come sono vestite Che bomba Adesso passiamo Nella categoria Verde Oh Peace and love Che metto qualcosa Che metto qualcosa Wow Oh Oh Questo poi E sono modulabili Sono modulabili Poi c'è blue No viola Purple Questo è carino Questo è figo Questo poi Wow Poi c'è rosino Bello Mi piace rosino Perché voi non vedete Ma io ho messo tutti dei led Faigli Faigli Ma sì che vi faccio vedere No Vedete Faigo Faigo E non è tutto Perché ho comprato anche qualcosa di carino Adesso fammi rimettere il colore di prima Ok Ma come si usa Flash no Oh Ce lo fa Tra l'altro Un'altra cosa che ho comprato Che voglio farvi vedere Che Adoro E' questa lente della Ulanzi, One Angle Wands E io non lo sapevo, ma è per la mia Sony ZV-1 Il grand'angolo, ma non sapevo che veniva assieme anche alla lente macro Mi sono divertita a fare le foto degli insetti Oddio c'è la polvere Vi faccio vedere com'è l'effetto, così lo capite Allora, dicono di farla andare un po' avanti Wow, vedete quanto più spazio c'è Proprio grand'angolo, perché ti dà il 52 mm Mentre la Sony ZV-1 è una 24 Ma va bene lo stesso, per vloggare ci sta alla grande E niente, vediamo un po' Voglio far vedere se lo tolgo com'è Adoro Quindi ho una quarantina di euro su... Ovviamente sempre Amazon E niente, questo è il make-up che io faccio di solito Quando esco, quando voglio sentirmi carina Quando voglio andare a rovinare le famiglie No ragazzi, mi sto scherzando Ecco qua Tornando al discorso mascara che non vi ho fatto vedere Io uso questo qui, mi trovo molto bene Della Lush Princess Che fa un effetto ciglia finte della Essence Ottimo, funziona Economico, fa effetto ciglia finte Lo adoro Comunque ragazzi Il video è finito Spero di avervi fatto vedere un po' come mi faccio bella Come mi preparo per un evento Vabbè, insomma Io sono abbastanza naturale Penso che l'avete capito Ovviamente anche un po' dai limiti, no? Della pelle allergica Io vi saluto E intanto vi invito a mettere un bel mi piace A iscrivervi al mio canale A attivare le notizie E a farmi sapere se provate uno di questi prodotti Anche un vostro piccolo like O anche un'iscrizione Può davvero aiutarmi a raggiungere mille iscritti Ciao 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 Grazie Ciao 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 Ciao